Eccoci rientrati in studio, abbiamo parlato in lungo e largo di Juve-Napoli, match di domani sera in programma allo Juventus Stadium, però non abbiamo fatto una cosa, un pronostico. Quanto finisce? Proviamoci. 1-1. 1-1, Luca? Idem, come lui. Un pareggio, quindi Marco? 2-2. 2-2, quindi siamo sempre lì, tutti e tre verso il pari, per manciarsi troppo. Quindi un pareggio che di fatto lascerebbe le sorti del campionato più o meno invariate, che quindi poi sia Juve che Napoli dovranno andare a guadagnarsi la propria chance nelle partite a venire, ma passiamo invece adesso a Fiorentina-Inter, perché se Juventus-Napoli è la partita che di fatto può decretare momentaneamente la prima del campionato, Fiorentina-Inter può fare altrettanto con il terzo posto. Capitolo Inter. Un Inter che quest'anno è partita bene, è partita molto bene in campionato, è riuscita a fare delle buonissime cose. Un Inter che però dall'ultima partita in casa di dicembre, quella con la Lazio, fino ad oggi sta facendo davvero davvero tanta fatica. Tante le partite magari perse, quelle pareggiate, lo scivolone nel derby clamoroso, 3-0 contro il Milan. Un Inter che sta facendo fatica a riprendersi e che viene dal 3-3 contro il Verona. Ricordiamo, ultimo in classifica. Prima sentivo che si parlava molto di marcature, di difensori, di difensori che sanno saltare. Beh, è stata la partita dove sul piano tattico e tecnico abbiamo visto delle cose che non esistono, in una squadra di marcantoni come sono l'Inter e tutto. Però, secondo me, qui ricambio quello che stavamo dicendo prima, il caro signor Mancini o non ha lavorato in una maniera come sta facendo in questi giorni per colmare questo debito che hanno, perché non si può prendere tre gol. Andanovic è la prima volta forse che non ha preso una volta un pallone che ha preso tre gol. Lui di colpe ne ha perché non esce mai, questo è anche vero. Però forse la partita è stata un po' troppo sottovalutata. Anche se abbiamo visto che domenica scorsa le tre ultime incontravano le tre prime, le prime tre o tre quattro, e hanno fatto tutti fatica. Eccetto il Carpi che è andato a giocare a Napoli facendo catenaggio puro. Sì. Che il Frusinone al primo tempo ha resistito alla Juve, poi dopo tutto questi sono i risultati. Non è mai facile niente in Italia. L'ultima può vincere anche con la prima ed è successo e questa è la verità. Però l'Inter tatticamente c'è qualcosa che non va. Forse ha avuto più di quanto meritasse prima. Forse sta pagando un po' di sfortuna perché alcune partite non sono andate a finire bene, come il Sassuolo, come questa è la verità. Però l'Inter c'è qualche problemino, ma secondo me è un problema che parte dall'alto per arrivare tutto completamente alla squadra. Luca, un problema che parte dall'alto, un problema che probabilmente riguarda anche la testa di certi giocatori, faccio una domanda su Roberto Mancini. Perché noi quest'anno abbiamo assistito, già l'anno scorso, a un Roberto Mancini diverso rispetto a quello che ci ricordavamo dei suoi trascorsi in Italia. Un Roberto Mancini che è stato anche classificato come l'English Man. Un Roberto Mancini quasi zen qualcuno. Addirittura l'ha chiamato. Poi ci fu quell'episodio di Napoli in Coppa Italia dove ebbe quella diatriba, anche giusta, nei confronti di Maurizio Sarri, poi quello scivolone non solo dell'Inter nel derby ma anche suo, Mancini viene espulso, torna negli spogliatoi, fa quel gestaccio ai tifosi, sta perdendo la testa, l'ha persa. Cosa sta succedendo a Mancini? C'è sicuramente parecchio nervoso perché sta capendo probabilmente che la situazione gli sta scivolando di mano e aveva fatto molto probabilmente la bocca buona nei primi mesi di stagione quando l'Inter era al vertice e molti pensavano che se la giocasse fino alla fine. Io credo che l'Inter non sia in crisi, io credo che non sia, o meglio, sicuramente l'Inter non è una squadra a scudetto e non è nemmeno adesso una squadra a medio-bassa classifica come gli ultimi risultati fanno pensare. L'Inter è una squadra a quinto, sesto, quarto, quinto posto e quindi bene o male in linea con quello che è il reale valore della squadra. C'è poco da fare, quindi io non parlerei di crisi, parlerei magari di una fase del campionato un po' problematica ma questa squadra può arrivare lì, può arrivare al quarto, quinto posto. Non credo che possa, sicuramente le prime due sono fuori portata ma per il terzo posto vedo favorita la Roma perché è un organico superiore. Poi si può star qui a parlare di aspetti tattici dell'Inter, insomma. All'inizio sembrava un genio della tattica quando ogni tanto rispolverava qualche giocatore oppure mischiava le carte, adesso continuo a mischiare e non gliene va bene una. Secondo me invece, no, su questo non sono molto d'accordo con Luca. Penso che sia una crisi conclamata intanto perché non c'è solo l'episodio dei tre gol presi fotocopia a Verona ma nel giro di tre partite in una difesa che era veramente imbattuta con il miglior portiere del campionato in quel momento o tra i due migliori con Buffon nella difesa generale dove c'erano due centrali che funzionavano dove andavano d'accordo tutti eccetera eccetera e di colpo prende in tre partite nove gol vuol dire che da lì esplosa poi e di conseguenza è venuto fuori un allenatore che di solito è molto tranquillo molto polemico che se la prende quasi sempre con gli arbitri che litiga ed è con la stampa che va in conferenza stampa già nervoso e tutto e viene trasmesse da cose che lui avrà intuito che sono poi cose anche societarie, prendiamoci chiaro, ma anche ni danè in milanese ragion per cui da lì è un po' per me è da quello che discende un po' tutto e i ragazzi psicologicamente questo lo avvertano anche se io non so poi le cose interne se tutto è arrivato dal punto di vista economico per tutto lo staff sempre perfetto, puntuale questo noi non lo possiamo sapere e non lo saprà mai nessuno probabilmente però l'atmosfera che si respira quando c'è una società che ha dei problemi, dei seri problemi si trasmette inevitabilmente su tutto, per me uno dei problemi è quella vi ricordate la Lazio come è entrato in campo Felipe Melo? vi ricordate che disastri sono avvenuti in quella partita lì con una Lazio che era in crisi? da lì è partito tutto per conto meno è partito tutto da quella partita che Andreva realizzò un bellissimo gol dopo pochi minuti adesso può essere sì da Scudetto ma non c'è credo nessuno ha neanche tra i più accaniti tifosi che poteva pensare che era uno Scudetto da vincere in carrozza con una difesa che era 10 gol presi credo che nessuno però almeno da puntare per i primi tre posti invece adesso vedo come tremendamente difficili su questo anche io la penso come Luca tremendamente difficili i primi tre posti sarà un'impresa rientrare in Coppa dei Campioni anche se Mancini ha sempre detto che lui puntava al terzo posto questo era l'aspetto massimo se tu analizzi l'organico dell'Inter alla fine Felipe Melo è vero ha avuto quel momento ma Felipe Melo non è nuovo queste cose le ha sempre fatte nella sua carriera quindi ogni tanto gli escono questi momenti e c'è tornato, abbiamo già visto queste cose poi vai a analizzare tutti i giocatori Miranda Murillo, coppia di centrali fenomenale Murillo l'ha pagato 8 milioni e giocava nel Granada 19 partite in stagione Granada vuol dire Udinese all'Udinese non hanno l'anno a naso all'Udinese i cadaveri li fanno pagare cari se questo l'ha fatto pagare 8 milioni di euro vuol dire che è un giocatore di media levatura nazionale, non internazionale di media levatura in Italia parlo Miranda è un giocatore caratteristico ma non giocava più fase nettamente calante nazionale brasiliano, tutto quello che vogliamo ma ormai la nazionale brasiliana non è che sia la nazionale brasiliana in difesa specialmente quindi alla fine vai a valutare bene la squadra cosa ti può dare questa squadra? io voglio dire tutti pensavamo che adesso è un momento di grave crisi ma questa squadra dove poteva arrivare? è più forte della Roma? perché Napoli e Juventus sono fuori portale ma se è più forte della Roma allora uno dice può arrivare al terzo posto però se non è più forte non è che possiamo anche se la Roma in questo momento con questa crisi con la Roma in massimi io la puoi giocare penso che ce la puoi giocare con la Roma e la Fiorentina se sta in massimi ce la puoi giocare io vedo anche sono le tre squadre che al momento si stanno giocando il terzo posto il terzo posto forse la Roma ora con Spalletti ha un pochino imbroccato la retta via forse era una Roma un po' vittima anche di se stessa questo sicuramente però se tu analizzi le prestazioni della Roma non sono state così tanto se non l'ultima un po' meglio no 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 assolutamente c'è questo momento penso che la Roma abbia fatto un prima parte di campionato poi Spalletti ha messo tre giocatori che sono di determinante per ottica ha fatto gol Saravui ne ha fatti già due Zuccanovic dietro quindi parliamo sempre dell'allenatore poi dopo cambia gli elementi se cambia gli elementi e non è più quella squadra io ti stavo dicendo che ha messo a posto la squadra gli sta venendo anche un po' di fortuna è giusto che uno ne venga e ha messo tre giocatori è vero che non è che stia anche perché ha rischiato anche l'ultima partita ha rischiato moltissimo con la Sampdoria di prendere gol con la Sassuolo se fa segna il rigore Berardi e finisce pari finisce 1-1 giusto ma poi anche l'Inter è il momento che di episodi non ne vanno e quando tu ti sbagli c'è un episodio poi tutto viene considerato però l'Inter se fa rigore può andare bene poi giustamente io continuo a sostenere l'errore dell'Inter sulla costruzione della squadra è concettuale tu quando hai un centroavanti da 30 gol devi costruire la squadra con due ali che lo mettono se vuoi giocare col 4-3-3 due esterni d'attacco uno potrebbe essere Perisic un altro come Perisic che è visto domenica pallone di Bufu e di Perisic cross e questo in carità ha anticipato tutto così l'Inter doveva giocare così aveva questi giocatori qua anche mercato di gennaio poi vabbè per noi è facile parlare qui in studio però l'Inter avrebbe potuto provare quantomeno ad arrivare ad un esterno di destra che potesse giocare a titolare perché l'esterno di destra ma secondo me l'Inter ha bisogno di un giocatore in centro a campo è l'unico che ha detto l'ultimo passaggio che ha detto lì deve prendere i giocatori importanti secondo me forse la punta Eder con i giocatori che aveva già lì l'Inter poteva far di meno però anche perché però l'Inter gli manca chi fa gol e se non è Riccardi chi fa gol questo è il problema lì poi ritorniamo anche sulla mancanza vera e propria del regista da un pochino di tempo noi siamo quasi in chiusura ancora un pochino di minuti Milan Milan che gioca a San Siro arriva il Genoa a gara che potrebbe essere anche condizionata da qualche gol dell'ex perché Niang adesso è tornato al Milan potrebbe perché no giocare da titolare e quindi far male al Genoa ricordiamoci che dalla parte opposta però sono appena arrivati con questo mercato due giocatori del Milan Cerci e Suso che partita vi aspettate Luca parto da te ma partita difficile io il Milan quando deve fare il salto di qualità che sembra sempre che debba riuscire ad agganciare il treno non ce la fa mai ma io non la vedo così facile anche se il Genoa ha delle assenze importanti perché mancare Pavoletti davanti vuol dire tanto per il Genoa poi mancheranno Saldi a sinistra che è un altro che stava facendo molto bene non lo so il Milan è favorito però ecco gli manca sempre qualcosa in più anche lì anche qui critiche sul Milan ma il Milan è inferiore alle squadre che c'è davanti c'è poco da inventare andiamo a vedere la classifica al volo è un Milan a quinto sesto posto che se dovesse trovare tutte le situazioni positive che volgono al positivo può ambire ad arrivare quinto quarto ma non la vedono in prima e tre Milan a 40 punti a 44 c'è la Roma a 45 c'è l'Inter quella è la natura del Milan quella è la sua classifica quello è la sua Europa League al massimo d'Europa League penso anch'io che poi la partita con il Genoa non gli è andata molto bene quella con l'Udinese due partiti in casa con un Genoa che gli mancano due assenze importanti è vero che c'è Cerci come hai detto tu mancherà anche rinconi in mezzo anche rinconi in mezzo tre addirittura perché uno è squalificato e due assenze di importanti anzi infortuni anche abbastanza seri teniamo presente che anche il Genoa ha fatto faticare la Juventus a batterla a pieno organico però c'è l'allenatore che è esperto come Gasperini però dico già ha perso punti con l'Udinese con questa dovrebbe partire ho sentito Balotelli al fianco di Bacca staremo a vedere sicuramente è favorito insomma se gioca anche in casa e non lo si dà favorito allora sicuramente è favorito incontrerà le sue difficoltà io la vedo così Angelo stavi commentando al volo la scelta di un probabile Balotelli titolare ma secondo me io l'ho visto malissimo questo ragazzo qui non è ancora in condizione da quando è rientrato sì sì non è in condizione niente questo ragazzo che ormai secondo me è sulla strada che si è perso completamente questo ragazzo aveva delle doti io lo conosco molto bene quando era esittore giornale dell'Inter aveva qualcosa di importante ed era umile adesso non ha più niente di umile e gioca da solo ed è il problema che Balotelli ha abbiamo detto tante volte problema di testa chissà più che altro anche a fine stagione quale sarà il suo futuro Balotelli che non si sa se tornerà a Liverpool o se il Milan a quel punto crederà in lui e quindi lo terrà a Milano noi siamo arrivati davvero alla fine ricordiamo domani Juventus Napoli ore 20.45 programma lo Juventus Stadium io vi ringrazio per essere stati qui con me questa sera Angelo Fogagnolo grazie a voi Luca Di Benedetto grazie a voi buonasera e Marco Bazzoni grazie e buonasera a tutti i nostri amici grazie per essere stati con noi grazie ovviamente anche a voi a casa noi ci rivediamo alla prossima puntata grazie a tutti i nostri amici Il programma è stato offerto da... Un tuo neo ha cambiato forma, colore o dimensione? IDE è la soluzione per te! IDE, la pelle siamo noi! www.ide.it Nuova S Sport, rivenditore all'ingrosso di articoli sportivi. Oltre 30 anni di esperienza al servizio delle società sportive nella fornitura di abbigliamento, attrezzature ed accessori delle migliori marche. Studio grafico interno specializzato nella personalizzazione dei materiali. Nuova S Sport, lo store per veri sportivi. Viagon in 56, Milano.